essere perfetti come il padre celeste è perfetto la santità si riassume nell'imitare dio l'amore e principio e fine di tutto non c'è prova maggiore amore che dar la vita per il fratello gesù imitò il padre e rivelò il suo amore ogni gesto ogni parola di gesù dalla nascita fino all'ora della morte in croce è un'espressione di questo amore creatore che non dipende dal presente che riceve né discrimina l'altro per ragioni di razza sesso religione o classe sociale ma che nasce da un voler bene completamente gratuito la manifestazione piena dell'amore creatore in gesù si evidenzia sulla croce con questa preghiera padre perdonali perché non sanno quello che fanno il veleno della disumanità non riesce a raggiungere la fonte di umanità che sgorga dal cuore di gesù qual è il motivo più profondo dello sforzo che compi per osservare la legge di dio meritare la salvezza o ringraziare la bontà immensa di dio che ti ha creato ti mantiene in vita e ti salva